Colto Public Folder è l'applicazione per condividere con i propri colleghi calendari, contatti, attività e cartelle pubbliche di Outlook pur senza avere un server exchange. Da oggi puoi condividere calendari, contatti e attività ovunque ti trovi e senza nemmeno avere un Outlook a disposizione. Infatti l'applicazione Colto Public Folder Mobile, disponibile per iPhone, iPad e piattaforma Android, ti permette di accedere a tutti i dati anche stando fuori dall'ufficio. Facciamo un esempio e uno schema per vedere come funziona. Siamo all'interno della nostra rete LAN, abbiamo dei PC equipaggiati con Outlook e con il plugin Colto Public Folder e questi computer condividono con il proprio server Public Folder contatti, calendari e cartelle pubbliche. Ebbene, con l'applicazione Mobile Colto Public Folder, dicevo, possiamo con il nostro smartphone, collegandoci da fuori nella nostra rete, possiamo vedere e modificare tutte le informazioni presenti negli Outlook dell'ufficio. Non solo, possiamo modificare queste informazioni e crearle nuove. E tutte le nostre modifiche faranno visibili in tempo reale ai nostri colleghi. Benché con la versione Mobile di Colto Public Folder ti possa sembrare di usare un applicativo cloud, in realtà i tuoi dati sono protetti all'interno della tua rete LAN. L'applicazione Mobile infatti si collega al tuo server Public Folder esattamente come si collega un PC dell'ufficio con Outlook. Tutti i dati, calendari, contatti, attività, cartelle pubbliche, non vengono pubblicati da nessuna parte e stanno sempre solo sui tuoi dispositivi Mobile o PC con Outlook e anche la sincronizzazione dei dati è coordinata dal server che sta all'interno dell'azienda. Tutte le informazioni del tuo Outlook puoi averle anche sul tuo smartphone, da adesso. So, show 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 Grazie a tutti